Il numero di Vita Nuova in Edicola questa settimana dedica una pagina alla vicenda di Vincent Lambert, tetraplegico 42enne, al centro di una storia giudiziaria in Francia per la quale, secondo il settimanale diocesano, si potrebbe parlare di eutanasia. La sezione del giornale dedicata all'attualità continua ad occuparsi delle dipendenze con un'intervista al dottor Domenico Guerrini, medico volontario al CERT. L'editoriale del direttore Don Paolo Racchi ci analizza il risultato delle elezioni europee al centro anche di una riflessione del dottor Marco Gombacci. Le pagine dedicate alla chiesa locale propongono un articolo sulla corsa dei miracoli richiamato fra l'altro dalla fotogrande di copertina. C'è spazio anche per la festa patronale di Santa Rita da Cascia e per il ricordo di Giovanni Paolo I alle serate musicali di San Giacomo presente l'arcivescovo. Monsignor Giampaolo Crepagli è stato anche fra gli ospiti del convegno Formazione e Comunicazione Quale Futuro, organizzato dalla Commissione Diocesana per le Comunicazioni Sociali ed ha compiuto una visita pastorale al santuario di Santa Maria Maggiore. Questa settimana la pagina Unitalsi è fra gli argomenti di economia e società un servizio sulla consegna al professor Gianfranco Sinagra, direttore della cardiologia del sigillo trecentesco. Un approfondimento dedicato alla figura di Don Rodrigo alla fine delle ricche pagine di cultura e spettacoli chiude il giornale che come al solito si può acquistare anche nelle parrocchie.